Come giudica la chiusura della frontiera austriaca per l'emergenza migranti? Dico che è un fatto molto serio e su cui dobbiamo molto riflettere. In particolare direi che decisioni di questo genere dovrebbero essere prese a livello europeo e non dei singoli stati. E' certo che questa è una situazione che potrà danneggiare l'Italia, in quanto che questi migranti verranno bloccati in Italia e non potranno più circolare. Devo dire che non sono assolutamente d'accordo. Non mi sembra giusto, ci sono anche degli accordi internazionali da rispettare. No, direi proprio di no. Troppo rigidi loro o troppo permissivi noi italiani? Troppo rigidi loro e noi italiani anche molto troppo permissivi. Penso sia una cosa un po' stupida perché dal punto economico è un po' un danno per l'Italia. Visto che poi ci saranno code monumentali al Brennero, quindi mi sembra una cosa, ripeto, un po' stupida e affrettata. L'Austria di certo non pensa agli interessi italiani. Ma io invece sì. È stupido anche per loro perché nell'altro senso i tir che vengono dall'Austria e l'Italia è un danno reciproco. Non sono d'accordo perché casca tutto, casca l'Europa se chiudiamo le frontiere. È una cosa comunque da decidere a livello europeo. Non penso che un singolo Stato possa decidere di fare, disfare, chiudere o aprire. Non è che chiudendo una frontiera si risolvano le cose. Penso che stia scherzando. Già fa una cosa assurda nel chiudere la frontiera. E poi come può venire in Italia a fare il controllo, essendo un altro Stato? Io non sono d'accordo con la chiusura delle frontiere. Io penso che l'Europa intera avrebbe dovuto pensarci prima e cercare di trovare una soluzione, ma tutti insieme, non ogni Stato per conto proprio.